Per quello che ho visto in televisione c'è, però al di là dell'episodio che ora è inutile stare qui a commentare, per il resto credo che prima di tutto la squadra abbia dato tutto quello che poteva, senza dubbio. Abbiamo messo in campo il massimo, poi ovviamente se andiamo a parlare di situazioni, probabilmente oggi, soprattutto nel secondo tempo, potevamo far meglio in fase di possesso, perché in fase di non possesso la squadra ha lavorato bene, in fase difensiva, in fase di possesso non siamo riusciti, come in altre partite, a mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di puntare a rete e comunque di essere pericolosi, questo è quello che è successo. C'è rammarico per aver perso il derby, perché l'obiettivo ovviamente era quello di portarlo a casa e di darci una gioia, noia a tutta la nostra gente. Sì, sì, quello che dicevo, in fase di non possesso la squadra ha lavorato molto bene, in fase di possesso abbiamo preparato tante situazioni che poi siamo riusciti a mettere in pratica non del tutto, oppure in parte, quindi anche probabilmente per bavura dell'avversario ovviamente, perché al di là di tutto comunque incontravamo una grande squadra. No, non lo so se si compensano, io faccio questo mestiere e devo per forza di cosa pensare che sia tutto fatto ovviamente in buona fede, quindi l'errore ci può stare come lo facciamo noi e sono altrettanto convinto che i punti ce li andremo a riprendere noi.